Detto questo ragazzi stiamo con 7 kill, ce ne mancano altri 3, vediamo di farceli fuori, va eccolo 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 Uh 60! Let's go! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite finalmente con la patch 15.40 Abbiamo un bel po' di cose di cui parlare, sia di roba che è stata effettivamente aggiunta in game ma anche di leak che ovviamente abbiamo grazie allo studio dei dati Infatti ragazzi i nostri leaker di fiducia ci hanno già dato parecchie notizie sia sul futuro di Fortnite che su altre cose molto interessanti Quindi guardate il video fino alla fine Come al solito vi ricordo di supportarmi nel negozio oggetti di Fortnite con il mio codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato Grazie davvero di cuore per il supporto ragazzi Mi raccomando vi ricordo di controllare in basso a destra e ci sia scritto supporto a un creatore GGYT tutto grande tutto attaccato Perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Tra l'altro c'è la mia bella pala visione nello shop ragazzi lo sapete che sono innamorato di questo piccone E ci sono ancora un bel po' di altre cose eh c'è ancora Flash, quelle di San Valentino eccetera eccetera Ma detto questo ragazzi andiamo innanzitutto a mettere in singolo, mettiamo pronto, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Mi raccomando lasciando un bel mi piace arriviamo almeno a 10.000 like per questa nuova patch Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, controllate di essere iscritti e se non lo siete iscrivetevi E adesso appunto vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Allora ragazzi ovviamente voglio premettere una cosa Quest'oggi andremo a parlare di tutti i leak che sono stati trovati nella mattina Quindi praticamente tutti i leak che sono stati trovati immediatamente nei file di gioco Quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale perché sicuramente durante la giornata di oggi usciranno tantissime altre notizie E magari perché no questa settimana ce la prendiamo particolarmente buona per continuare a parlare un po' di news Quindi mi raccomando ragazzuoli lasciate a maggior ragione un bel mi piace Detto questo ragazzi iniziamo subito a parlare Allora abbiamo un sacco di nuove skin in arrivo e questa volta sono davvero molto molto belle ragazzi E' raro che si vedano così tante skin messe insieme che a breve debbano appunto uscire Qui ovviamente me ne starò assolutamente facendo vedere alcune nell'immagine del video E abbiamo anche dei nuovi picconi Avremo anche dei nuovi picconi davvero molto particolari anche questo Ribadisco non ho mai visto degli oggettini così belli uscire tutti insieme Poi ragazzi abbiamo anche questo nuovo fantastico deltaplano Regà è qualcosa di spettacolare Cerberus regà non vedo l'ora di provarlo Anche se ho paura che possa essere davvero particolarmente grande E poi qui abbiamo una serie di pack che torneranno in game o che comunque sono nuovi E che quindi usciranno a breve su fortnite Ribadisco non ho mai visto così tanti pack skin belli messi insieme che a breve debbano appunto uscire Re abbiamo anche qualche set della marvel che deve uscire Come per esempio non so dei passi che abbiamo qui davanti Mannaggia la miseria Ah c'ha già anche lo scudo perché sicuramente si è fatta qualche barilotto Ah già il pompa blu avevi eh va bene ok beata te Dicevo come per esempio silver surfer e altri E usciranno di nuovo anche le modalità a tempo limitato della marvel Dovrebbero riuscire ma queste qui sono state già trovate tempo fa nei file di gioco Quindi di questo già ne eravamo a corrente Quindi per adesso abbiamo di sicuro solo silver surfer Però ragazzi se li mettono in mezzo la modalità della marvel Chissà che magari non ne possa uscire anche qualcun altro Perché insomma perché far uscire solo silver surfer e non tutti gli altri Ora ragazzi andiamo un attimino a parlare del fatto che ci sono altri passi Ci sono altri passi signori che si stanno spostando A buildi signora eh Oh ma quanto è cattivo questo Non aveva armi ma mi ha tolto 40 di vita con due picconate Ma sei serio? Comunque io non riuscirò a mettere un fucile d'assalto in questa partita Cioè fatemi capire Niente è un altro fucile a pompa vabbè Comunque stavo dicendo ragazzi Andiamo un attino a parlare di creativa Perché a quanto pare sono state aggiunte nuove stringhe di gioco Niente è un altro pompa Che parlano delle mod Delle mod di fortnite signori Ne abbiamo già parlato spesso nei video scorsi Però ragazzi sembra sempre più vicina questa storia delle mod su fortnite E anche della customizzazione delle armi Che appunto come vi dicevo sempre in un po' di leak fa Si parla di potenziamento alle armi Come per esempio aggiungere un mirino ad un'arma Potenziare i danni Magari potenziare la mira e queste cose qui Magari mirini termici Caricatori più grandi Insomma roba del genere Già ne avevamo parlato sempre un po' di tempo fa ragazzi E sembrano che sempre più fagli di gioco inerenti a questa roba Siano aggiunti in game Quindi ragazzi sempre prima Arriveremo a queste robe Abbiamo un po' di nuovi discorsi Tra gli NPC del nuovo pass E appunto le skin In base a quello che ti metti Quindi in base alla skin che hai Comunque vorrei far notare un altro pompa Come per esempio l'hexa con Orin Oppure Jonesy con il demogorgone Quindi ci sono altri dialoghi in game Ah c'è la nuova pistola raga Cioè oddio non è proprio nuova pistola Ma è quella eccola qui La pistola questa qui ragazzi Non mi faceva impazzire Però potrebbe essere divertente da utilizzare Sicuramente finchè non trovo un fucile d'assalto Me la dovrò ottenere ragazzi Questo è poco ma sicuro Tra le altre cose ragazzi Fortnite sta migliorando tutto quello Si è girato e mi sta sparando Come ha fatto a vedermi ragazzi Come ha fatto a vedermi se è girato Ah vediamo se mi ricordo ancora come si fa Si ma era totalmente inutile quello che ho appena fatto Ah vediamo un attimino se riesco A farmi fuori questo qui Che mi vuole balestrare No non c'ho Ah non c'ho Giustamente non ho Non ho le bouncer Dove vai? Dove vai signorino dove vai? Che ti lasero per bene con la mitraglietta Dove vuoi andare? Dicevo ragazzi Fortnite sta migliorando anche la qualità streaming e video Di quando va praticamente A far vedere gli eventi Cioè avete presente nel party reale no? Che partono sostanzialmente i video I concerti eccetera Bene sostanzialmente stanno migliorando un po' la qualità di quello A quanto pare Comunque qui appunto nello schermo Vedete un po' Ve lo leggete E capite voi Perché non sto capendo molto io E infatti ragazzi Penso comunque sia tutto riferito a questo Perché c'è tra l'altro anche un nuovo evento Parti reale che arriverà a breve Quindi sostanzialmente penso sia fatto anche per quello E chissà se prima o poi potremmo seguire gli eventi finali un po' da lì Niente comunque questa nuova pistola stiamo trovando ovunque Quindi secondo me è un segno del destino che la dobbiamo tenere Quindi dai verde ce la teniamo Let's go Tra le altre cose ragazzi dovrebbe uscire fuori un nuovo consumabile Il miele Di questo se non sbaglio ne avevamo parlato parecchio tempo fa Ma poi non se ne è fatto più nulla E però questa volta sembra essere effettivamente aggiunto in game Tecnicamente è un consumabile Ma chissà che non sia tipo le luciole Che uno ti spara le luciole e invece escono le api che ti pusciano Spero di no ragazzi perché io ho davvero tanta paura delle api Probabilmente potrei tranquillamente quittare Fortnite Per una cosa del genere Ma io Fortnite lo vorrei quittare Anche solo per colpa delle guardie Che mi sa che mi hanno puntato Mannaggia la miseria Mannaggia le guardie Regà quanto le odio Quanto le odio signori le guardie Non vedo l'ora che le tolgano C'è una nuova modalità grafica per quanto riguarda le modalità prestazioni Che devo ovviamente ancora testare e provare Anche se in realtà tanto per i video e per le live L'abbiamo bocciata la qualità prestazioni Però ovviamente poi la vorrò andare a provare Per testare un pochino tutto no E poi sembra che il Battle Bus sia stato modificato Chissà perché Lo dovremo guidare anche per il prossimo evento finale No in realtà non credo Comunque ragazzi Un'altra notizia di cui non abbiamo parlato molto È che come sapete Durante l'aggiornamento Quello prima di San Valentino Quindi diciamo in tutta la storia di Loveli e quelle nuove skin lì Si parlava di due nuovi NPC Una doveva essere Loveli E uno doveva essere il maschio di Loveli no? Invece alla fine della fiera Sembra che Big Games si sia sbagliata E che quindi abbia aggiunto due NPC Ma sempre Loveli Quindi solo Loveli doveva essere un NPC Tra l'altro penso che abbiano avuto degli errori in game Perché non capisco il motivo per cui non l'hanno aggiunta Dato che San Valentino ormai è passato E quindi ragazzi a quanto pare Abbiamo delle guardie anche qui Niente E io mi dimentico perché mentre parlo Non ragiono su dove possano essere le guardie Quindi gli vado direttamente in bocca Niente ragazzi Quanto pare hanno lasciato però I 44 nuovi NPC O meglio nuovi 44 NPC E quindi uno di questi NPC ragazzi Dovrebbe essere Miauscolo Avete capito bene ragazzi Miauscolo Ma poi l'avrete letto al titolo e visto dalla miniatura Perché sicuramente avrò messo Miauscolo e Mida Nel titolo e la miniatura Dato che erano le notizie più importanti Perché sì ragazzi Sembra che Mida torni Non si sa se è come boss o come NPC Mentre Miauscolo dovrebbe essere a tutti gli effetti un NPC Questa cosa mi dispiace un pochino ragazzi Perché insomma mi fanno tornare in mente Tutti quei bei ricordi della seconda stagione Di questo secondo capitolo di Fortnite E mi sono piaciuti tantissimo tutti quei boss E adesso me lo fanno tornare come un semplice NPC ragazzi Sono abbastanza dispiaciuto Tra l'altro ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti Se li avete già trovati perché io ovviamente sto registrando in rapidità di mattina E non ho ancora trovato né Miauscolo né Mida Però tecnicamente giusto uno dovrebbe essere stato già aggiunto Anche se in realtà non è detto Anche perché Mida da quanto ho capito è ancora proprio in lavorazione Quindi giusto Miauscolo potrebbe essere stato aggiunto Magari sta con kit? Boh Comunque ragazzi ribadisco Molte cose non le ho nemmeno trattate Proprio perché voglio trattare giusto quelle più importanti Magari proprio domani farò un altro video Dove tratterò in maniera un po' più precisa e dettagliata Tutto quello di cui abbiamo parlato quest'oggi Quindi mi raccomando tenetevi belli attivi sul canale Vediamo se qui è rimasto qualcuno in vita Ma non mi sembra Uh quello lì Aspettate eh No no sta dall'NPC No regà stava fermo E mi son perso l'occasione Mi son perso l'occasione per sparargli una bella botta in testa Tra altre cose ragazzi Altra notizia Sembra che guardando proprio in gioco Quindi anche guardandolo in game Il punto zero sia meno forte Quindi è come se stesse perdendo potenza E effettivamente se vi ricordate Nel video di ieri abbiamo parlato del fatto Che Jonesy è stato risucchiato E che sta finendo con le trasmissioni E quindi possibilmente è tutto legato a questa cosa Dei viaggi appunto In giro di Jonesy Dato che adesso ha finito di fare questi giri Perché è stato risucchiato Magari il punto zero sta iniziando a perdere potenza Quindi chissà poi alla fine della fiera Come andrà a finire Io so solo che quello lì Si è andato a camperare lì in alto Ma vuole rompere le scato Cioè tu sei proprio la peggio feccia Di Fortnite Ovvero che ti camperi Ma che poi spari da lontano agli altri Guardalo No rega lo devo pushare No rega lo faccio il giro qui Lo pusho perché non ci sto Non ci sto assolutamente Vado a morire perché questa È assolutamente un'azione suicida Ma lo devo far fuori ragazzi Devo almeno dargli fastidio Comunque dicevo ragazzi Questo punto zero dovrebbe essere Più basso e meno luminoso addirittura Quindi si effettivamente È come se stesse proprio perdendo potenza E quindi la gravità lo sta ritirando giù Ok eccolo lì raga È occupato a sparare a qualcun altro Spero non m'abbia visto No rega build dietro Mi sa che pure lui Poi tra l'altro No mi sono impicciato Con le mie stesse costruzioni Ma come posso uccidere qualcuno Se mi impiccio Con le mie stesse costruzioni Come posso fare Ma come ho preso tutto sto danno Ma dai come ho preso tutto questo danno Allora vediamo se ci riusciamo In qualche modo a fargli entrare Quella che è l'ultima hit In realtà eh E olè E si entra Pulitissimi Let's go Eh niente raga Mi tocca mangiar flopper E mi prendo i mini shield Che devo fare per forza Detto questo ragazzi Si puscia il nostro acerrimo nemico Per forza raga Perché non si può Ok ok Gli stanno Perfetto Gli hanno infuocato tutto 35 35 Dai amico mio Dai amico mio da sinistra Sparagli Dai amico mio Gli abbiamo rotto lo shield Non sparare a me Non sparare a me Grandissimo Chi è che mi sta a sparare Maledetti Ma tu sei un maledetto Dobbiamo Dovevamo fare squadra Contro quello lì giù Perché fai così Dovevamo fare squadra Contro questo E mi hai tradito Dov'è Dov'è andato Eccolo Eccolo raga Eccolo Eccolo raga E ci vendichiamo così Oh mio dio Ma questo Ma questo sta aggressivissimo Peggio di me E' caduto E' sceso E' sceso o è caduto Non ho capito Allora io mi ha Eh no 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 Ok adesso Meno male che Qualcun altro l'ha pushato Oppure No sta sparando col pompa Alle mie strutture Ma è del mestiere questo L'ho lisciato Anch'io non sono del mestiere Palesemente Non sono palesemente Del mestiere Va bene Detto questo Ragazzi stiamo con 7 kill Ce ne mancano altri 3 Vediamo di farceli fuori Va eccolo 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 Uh 60 Let's go Bella hit Vediamo se riusciamo a fare Ma un altro lì sotto Vediamo No ma non l'ho ancora caricata Mannaggia la miseria Ma era mio quel muro L'ho lisciato malamente L'ho lisciato malamente Niente col pompa oggi non ci piglio Regà Col pompa non ci sto pigliando Assolutamente Ok quello si è buildato qua Che spera che io non l'abbia visto No mi sto No mi sto sbagliato Regà Mi sto sbagliato Volevo sparare palesemente col pompa Non volevo fare una cosa del genere Non volevo fare una cosa del genere Ragazzi mi sto sbagliato Dove sei chicco Niente col pompa Non ci piglio Non ci prendo Non ci prendo E non ci prenderò Quest'oggi Con il mio bel fucile a pompa Non ci prendo Niente regà Ve l'ho detto Io col nuovo fucile a pompa Ho dei seri problemi Non riesco a pigliare la gente Comunque regà Pure l'altro si è avvicinato Ci sta iniziando a fare compagnia Mi sa c'erba proprio qui fuori eh E no però questo qua Se dà fuoco a tutto Aia Ah questo faceva male Questo faceva Decisamente male Ci dobbiamo un attino richiudere Abbiamo pochissima vita Siamo messi abbastanza male Eccolo Eccolo No regà Mi sono sbagliato Volevo buildare Ma c'avevo l'arma in mano Vabbè ma oggi sto a far pop or pollo Regà Eccolo Ma questo Che cacchio sta a fa' No me lo vuole rubare No Era meglio se me lo rubava Era meglio se me lo rubava regà Mannaggia regà Non ho capito perché Vi sono impicciato tantissimo In stand game Peccato Ma diciamo che più che altro Se mi fossero entrati Quei due tre colpi di pompa Che ho missato malamente L'avrei vinta tranquillamente Sta partita Ma vabbè Peccato Mi raccomando Fatemi sapere cosa ne pensate Sotto nei commenti Tutto quello di cui abbiamo parlato Quest'oggi Miascolo e Mida Stanno tornando Vediamo un po' in che vesti Vediamo un po' in che modo Sarei contento in realtà Magari che Mida Dato che è in lavorazione Non è per questa stagione Ma per la prossima Sarei davvero contento Per rivederlo in un'intera stagione E non solo per l'ultimo mese Di questa sinceramente Fatemi sapere la vostra sotto Con un commento Vi ricordo Codice supporto a un creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio Oggetti di Fortnite Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Lasciando un bel mi piace Per me è tutto Ci ritroviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi